Io non la darei a uno come me. Ma adesso ci vuole introdurre i brani che andrete a raccontare. Per cominciare, come li avete selezionati? Se sono alti più di un metro, fuori. Solo che lo compri se vuole un microfono. Sono classi interi. Ed sono un po' emozionati tutti perché credo siano i più piccini di oggi. Questo è un progetto che non ha assolutamente nessuna selezione. Come non può crescere nel sistema aperto. In Italia. Siccome sono i più piccini, cantiamo di brani semplici proprio da cimbi. Qualcosa in realtà di popolare, un pochino più allegro e complesso. Ci vuoi dare due dito? Sì. Allora, ci sono due brani di carattere educativo. Uno è sull'origine del mondo. Mi sentito la Panku. Parlo di un mito cinese. Poi c'è un canto sul consumo consapevole. Ci siamo cruciati alla partecipazione a Expo. D'arte anno ci è andata male. Sul consumo consapevole è un retto. Poi faremo un canto balcanico con Alex Danna. Un altro laddostano, attenzione. Con la tutela pubblica. Un canto preso celebre in film. Nel tempo del Gitanio, in costruenza. Poi facciamo un film europeo. Perché fate tutto voi. Non ho più niente da fare. Gli rimane... Gli rimane... No, e poi facciamo un piano francese. Canto dei Neri da Neri. Che è un canto di raro. Ma sono tutte cose... Dio dai piccini, molto, molto. Siamo entusiasti. Non direi di ascoltare tra pochi istanti questi favolosi progetti di uomini e donne. Loro sono in Colomuse di Torino. Un bel applauso. Un bel applauso. Che è 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 un bel applauso. Da dove arriveranno? Pancu, pancu. Nito della Cina. Il tuo corpo ci regara tutta la natura. C'è un grande fuoco che aiude il mondo, che la acqua, l'aria e il fuoco vengono da te. C'è un grande fuoco che la acqua, l'aria e il fuoco vengono da te. C'è un grande fuoco che l'aria e il fuoco vengono da te. C'è un grande fuoco vengono da te. C'è un grande fuoco che la acqua, l'aria e il fuoco vengono da te. C'è un grande fuoco che la acqua. C'è un grande fuoco che la acqua, l'aria e il fuoco vengono da te. C'è un grande fuoco che la acqua, l'aria e il fuoco vengono da te. C'è un grande fuoco che la acqua, l'aria e il fuoco vengono da te. C'è un grande fuoco che la acqua. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.